Siamo nella parte degli artisti, è bellissima. Tu dovresti guardare alle cose profondamente, questo è un monito per il futuro, per la vita. Ci piace tantissimo quest'artista che vede cani e gatti un po' ovunque, ma poi anche questo sano humor nel prendere in giro alcuni quadri. Chiara, per favore girati, che poi mi gracchia. Guardate i cavalli, però c'era alcuni bellissimi, c'era quel signore che stava disegnando, questi qua sono bellissimi, credo, guarda che roba. C'è vai, fantastico, guarda che roba che fa. Tra l'altro qua c'è il suo Instagram se volete vederlo. di tutte le misure, bellissime.